È un'associazione che si occupa di donazione del sangue ed è attiva a Palermo e provincia. Siamo attivi fondamentalmente tutta quanta la settimana. Siamo attivi sia con un'autoemoteca, che sarebbe una sorta di autoambulanza che appunto gira la città e la provincia di Palermo, permettendo appunto alle persone di poter donare il sangue e presto apriremo un centro fisso in via Messina Marine, che sarà un centro appunto fisso per la donazione del sangue. Questo camper è itinerante, quindi tutta la settimana noi siamo a Foritalico, Piazza Leggiotto, Mondello. A seconda appunto della disponibilità di donatori, noi abbiamo appunto delle zone dove appunto siamo per cercare di andare incontro alle esigenze chiaramente di tutti quanti. Ogni volta che si avvicinano le festività, che sia Natale o che sia Pasqua, cerchiamo di essere particolarmente generosi nei confronti dei nostri donatori e quindi regaliamo sempre Colombe a Pasqua e Panettoni a Natale. Un donatore come può contattarvi? Allora, può contattarci tramite il nostro sito www.fimasodv.it e poi sui canali social. Abbiamo sia Facebook che Instagram, quindi potete scriverci la Fimasodv su Instagram e lo stesso nome su Facebook, quindi basta scrivere lì un messaggio e noi chiaramente immediatamente rispondiamo e poi contattiamo telefonicamente. Come funziona l'iter? Se non hai mai donato il sangue o se non l'hai donato negli ultimi due anni è necessario fare una pre-donazione ovvero un'intervista con il nostro medico e un piccolo prelievo che ci permette di verificare che la persona sia idonea alla donazione del sangue. Una volta verificato appunto che ci sia l'idoneità per tutta una serie di parametri a quel punto la persona viene ricontattata e a quel punto si pianifica quando effettuare la donazione del sangue vera e propria. Poi dopo una volta effettuata la donazione arriveranno le analisi del sangue gratuitamente sulla posta elettronica. La donazione del sangue chiaramente non è possibile senza che ci sia appunto un medico che presenzi la raccolta e quindi noi siamo alla continua ricerca di medici, soprattutto neolaureati, quindi questo è un appello che faccio a qualsiasi medico laureato che abbia interesse a cominciare a lavorare di contattarci perché noi siamo continuamente alla ricerca di medici. Noi dell'ottava circoscrizione abbiamo avuto modo di conoscere l'associazione Fimas e abbiamo avuto il piacere di organizzare un evento proprio per donare il sangue. Tutti i consiglieri dell'ottava circoscrizione hanno preso parte a questo evento e abbiamo provato a sponsorizzarlo sui canali social augurandoci che anche i cittadini residenti in loco potessero donare il sangue. A breve ci sarà un altro evento e sarà nostra cura comunicare la data.